e ben trovati questo è un video un breve video di introduzione all'architettura romanica e l'architettura romanica si sviluppa dopo l'anno 1000 quindi tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo e mostra dei caratteri abbastanza riconoscibili in tutte le arti del nostro settore quindi sia in architettura che in pittura che in scultura si sviluppa in un'ampia zona che non riguarda soltanto l'italia ma anche la spagna la francia la germania fino ad arrivare anche alla scandinavia e all'inghilterra si sviluppa grazie alle nuove condizioni socio economiche dell'europa che dopo un lungo periodo diciamo così anche di depressione presenta i presupposti per lo sviluppo di una nuova forma di arte che traeva i suoi fondamenti anche dallo sviluppo dell'economia e quindi anche dal superamento del sistema feudale e allo sviluppo del sistema comunale dovuto anche alla riforma degli ordini religiosi il termine architettura romanica sta a indicare anche un collegamento diciamo così con la tradizione classica romana in materiale le tecniche costruttive saranno diverse a seconda delle aree geografiche ci sarà un rinnovamento anche delle tecniche costruttive che si materializzerà in forme poterose e robuste però questa diversità a seconda delle aree geografiche sarà un pochino diciamo così anche in parte attenuata dalla circolazione delle maestranze che porteranno alle proprie capacità tecniche quindi di conseguenza risultati stilistici tra le varie zone d'europa diciamo che l'edificio una delle tipologie principali è quella delle chiese e delle cattedrali che normalmente sono situate al centro della vita cittadina e incominciano ad essere un pochino più articolate rispetto a quello che era stato realizzato precedentemente quindi spesso sono articolate in più livelli c'è il livello principale della della chiesa quindi delle navate poi normalmente nella parte terminale c'era la cripta diciamo così parzialmente interrata il presbiterio che era sopra la cripta e la forma di queste chiese normalmente a croce latina divisa in tre navate unito tutto con dei archi a tutto sesto quindi la caratteristica e questo si rifà come dicevamo all'architettura romana che vengono appunto realizzati questi archi a tutto sesto e sono sempre sormontati da dei capitelli che non sono dei capitelli diciamo dell'ordine architettonico classico ma sono dei capitelli realizzati in vari con una certa libertà e lo spazio coperto viene chiamato campata normalmente all'incrocio tra la navata centrale e il transetto c'è uno spazio su cui si eleva il tiburio e spesso sopra questo poggiava la cupola il romanico si sviluppa in italia in vari modi nel senso che tiene molto conto dell'utilizzo dei materiali locali delle tradizioni costruttive locali che variano da regione a regione e questo è importante perché in questo tempo in questo tempo antico chiaramente la i mezzi di comunicazione non erano ovviamente quelli che abbiamo noi a oggi per cui spesso delle tradizioni costruttive o dei modi culturali anche di affrontare determinate problematiche non erano nemmeno conosciuti in altre parti oppure se arrivavano arrivavano molto lentamente non come oggi e noi grazie ai moderni mezzi di comunicazione televisioni satellitari internet qualsiasi cosa è nota in qualsiasi parte a quel tempo non era così per cui spesso in zone differenti non si conoscevano le tradizioni costruttive differenti e spesso queste magari avevano bisogno anche di maestranze che circolavano allora in italia settentrionale è chiaramente la parte d'italia più a contatto con l'europa gli esempi principali sono sant'ambrogio a milano ma anche san marco a venezia il duomo di modena particolare san marco sorge a venezia dove era un po la testa di ponte per i commerci coloriente come era anche prima quindi era un pochino più aperta a tradizioni costruttive differenti nell'italia centrale gli esempi più importanti sono il campo dei miracoli a pisa e quello che viene realizzato a firenze soprattutto il battistero nell'italia meridionale anche qui era un pochino al centro di vari traffici diciamo così anche anche con il mondo arabo ma c'erano diciamo una serie di realizzazioni che tengono conto anche della cultura bizantina e della cultura araba possiamo citare la cattedrale di trani il duomo di amalfi il duomo di morreale neanche altre opere ma gli edifici religiosi sono spesso caratterizzati dalla copertura delle volte a crociera in un primo tempo si realizzano soltanto delle volte a botte volte a botte sono delle volte lunghe che necessitano ai lati di poterose strutture per poterle reggere diciamo così invece la volta a crociera l'intersezione di due volte a botte praticamente demanda ai quattro pilastroni sui quattro angoli del quadrato la resistenza delle sollecitazioni della cupola gli edifici religiosi avevano normalmente una pianta modulare qui vediamo la pianta della basilica di sant'ambrogio dove modulare per esempio la navata centrale in questo caso era praticamente il doppio delle navate laterali o perlomeno erano multiple rispetto a questo ecco qui in questo questo spaccato a sonometrio si possono riassumere un pochino tutte le tipologie che sono quelle della facciata principale della della cupola sopra l'incrocio tra la navata centrale e il transetto qui possiamo vedere anche come la facciata diventa una facciata a capanna dove praticamente nella facciata la differenza di altezza tra la navata centrale e le navate laterali non è evidenziata anche perché sopra le navate laterali spesso c'erano i matronei e quindi qui possiamo vedere anche tutti gli altri vari elementi costruttivi della tipologia della chiesa romanica ecco qui vediamo appunto la basilica di sant'ambrogio a milano e a sinistra appunto quello che dicevo prima è la facciata principale a destra vediamo la sezione possiamo vedere come questa differenza di altezza tra le due navate viene in facciata diciamo così assorbita dai matronei che stavano sopra le navate laterali è chiara che queste strutture queste chiese romaniche sono delle strutture molto poterose e anche l'illuminazione chiaramente era un'illuminazione radente per cui erano delle chiese diciamo molto anche buie ricordo come nelle chiese paleocristiane che erano delle basiliche la navata centrale normalmente era illuminata con delle finestre alte in questo caso essendo praticamente la navata centrale alta come quella laterale per effetto dei matronei a livello di sezione non c'era appunto questa possibilità di illuminarli ma non c'era nemmeno la volontà di illuminarli proprio perché queste chiese dovevano essere delle chiese diciamo ecco a sviluppo orizzontale molto ancorate alla terra e quindi ecco anche molto buie e oltre a questo nel dopo l'anno 1000 c'è una rinascita delle città e molte delle città anche romane erano state diciamo fondamentalmente abbandonate quindi avevano avuto una diminuzione di popolazione la gente spesso era andata nelle campagne anche per il sistema feudale e dopo l'anno 1000 quindi in corrispondenza dell'architettura romanica c'è questo nuovo sviluppo delle città e nascono anche delle nuove città spesso in zone di convergenza di traffici commerciali e che sono praticamente lo sviluppo della società comunale e chiaramente questo perché proprio con lo sviluppo della città della società anche comunale c'è stato anche una ripresa economica e quindi questo ha consentito appunto la realizzazione di opere la realizzazione di altre città e quant'altro la forma delle città normalmente non è una forma pianificata ma una forma spontanea cioè questa è anche una differenza tra la culto considerate che tutto il periodo medievale è lungo circa mille anni quindi spesso si perde anche la diciamo così la cultura classica come nella cultura classica tutto era realizzato in modo ordinato in modo preciso in modo simmetrico ecco nel medioevo questo non era più così e le città non vengono pianificate spesso le vie non sono delle vie quasi sempre delle vie rettiline ma sono delle vie che hanno un andamento anche tortuoso ma questo era voluto cioè non trovavano nessun motivo per fare le cose perfettamente allineate perché magari due artigiani che erano vicini erano artigiani di cose diverse e quindi la diversità doveva essere in evidenza invece che l'uguaglianza e ecco spesso anche le forme irregolari derivano anche perché le città sono arroccate per motivi di difesa essendo arroccate non c'era la possibilità di realizzare delle cose particolarmente lineari gli schemi delle città adesso li vedremo rapidamente possono essere a fuso lineare a struttura avvolgente a spina di pesce sviluppo centigrafo o a sviluppo indifferenziato sviluppo indifferenziato significa che praticamente con una forma libera alcune volte erano anche di derivazione romana per cui è possibile leggere nella città l'impianto romano originale che però è stato modificato adattato e magari è cresciuto in modo libero adesso ne vediamo rapidamente la città a solineare normalmente sono quelle che crescono su una cresta diciamo così collinare o montana quindi lungo un'unica curva di livello le città a struttura avvolgente normalmente sorgono all'interno cioè all'esterno il fulcro della piazza è normalmente un antico castello oppure una chiesa la piazza del mercato e la città si sviluppa in modo avvolgente intorno a questo elemento caratterizzante elemento centrale quelle volte ci possono essere anche avventagli o spina di pesce diciamo così che l'origine è più o meno quella della città vista precedentemente ma che magari per esempio qui il caso di Amsterdam che c'è il porto quindi c'è una forma un pochino differente a sviluppo centrico centrifugo cioè quando spesso la città era formata da più nuclei e quindi si sviluppa in modo così organizzato intorno a questi nuclei e a sviluppo indifferenziato qui c'è l'esempio di Martina Franca in Puglia dove di fatto non c'era un filo conduttore nel senso che c'era la possibilità di svilupparsi liberamente e quindi non segue una forma ben precisa ma uno sviluppo indifferenziato importante in tutte queste città sono le piazze le piazze diventano il centro della città intorno alla piazza erano sviluppati gli edifici erano disposti gli edifici del potere politico e religioso quindi oltre alla chiesa c'erano anche i palazzi di cui adesso parleremo e la piazza era il luogo principale di incontro dove si incontravano i cittadini era il luogo spesso dove si svolgevano il mercato i borghi i borghi sono praticamente dei piccoli villaggi che sorgono intorno al nucleo centrale della città spesso in alcune città la cinta muraria viene allargata quindi costruita una nuova cinta per mettere all'interno anche i borghi i borghi avevano spesso delle parti di territorio agricolo questo veniva fatto anche perché in caso di assedio questi borghi potessero grazie alla parte di villaggio con terreno agricolo fornire cibo per spesso anche lunghi periodi lo dicevo il palazzo pubblico che è tipico dell'età dei comuni non è concepito come il castello del signore ma proprio dove avevano la sete gli organi di governo cittadini diciamo che la tipologia del palazzo è abbastanza unitaria nonostante abbiamo detto che come l'architettura romanica si sviluppa in modo diciamo così differente a secondo dei vari delle varie zone però normalmente ha un carattere unitario e se sorge come abbiamo detto anche prima spesso nella piazza centrale quindi nella piazza centrale oltre alla chiesa principale c'è anche la il palazzo pubblico bene vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione